Ciao ragazzi, da tanto che non faccio un video, vi ho detto che facciamo una piccola pausa, ho fatto un mandato solo un video di, diciamo, del mio cane, del mio cane, oggi c'è mia nonna e mia sorella, vi faccio vedere l'albero che stiamo costruendo, guardate, ciao nonna, ciao morelli, ciao, è glicciato, Non è una foto, è un video, aspetta, si sta laggando tutto, ciao, ragazzi si sta laggando? Sto laggando tutto qua, ok, qua come vedete c'è il nostro albero, molto carino, faccio un selfie, anche se non posso fare il selfie del video, Io qua voglio vedere foto su youtube di questa cosa Ok, fatta Questo albero è più alto di quello di mia nonna Poi la dobbio decorare, faccio un altro video dove metto tutte le lucine con mia madre, cose Non lo farò dal vivo perché youtube dice che sono minorenne, chi lo sa già io ho 9 anni Quindi, gli ho fatto vedere l'albero, il prossimo video sarà che io decoro l'albero, forse sarà stasera oppure domani Oppure dopo domani Comunque buon pomeriggio Ciao Ciao